Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, pagelle di Juventus-Lazio 1-0, quarti di finale di Coppa Italia, Juventus qualificata alla doppia semifinale con l'Inter. Prima di tutto, prima di iniziare, vabbè, a parte il mi piace e il commento, anche con le vostre pagelle, proprio qui sotto nella sezione opportuna, vi informo che nel pomeriggio andremo in live su Twitch per guardare insieme il documentario su Federico Chiesa. Quindi se ancora non l'avete visto e se volete vederlo insieme a me, ci vediamo su Twitch che ci facciamo una visione del documentario tutti insieme. Seguite ovviamente le mie pagine social, ovviamente su tutte Instagram, dove nelle storie andrò ad aggiornare anche per l'orario ufficiale nel quale andremo online. Tra l'altro stamattina invece è uscito un altro video qui sul canale in cui vi parlo un po' della questione legata alla potenziale nuova penalizzazione di 20 punti per il fine dei stipendi e vi dico anche un po' la mia e quello che secondo me accadrà da qui a breve. Ok, direi di aver detto tutto, possiamo iniziare con le pagelle. Sei a Massimiliano Allegri. Allora, ieri sera in tanti non hanno condiviso la mia analisi della partita e ci sta, sono contento. Sono contento perché significa che molto probabilmente io ho visto un altro tipo di partita, un'altra partita. Però secondo me la Juventus ieri sera ha meritato la vittoria. La Juventus tra le due squadre è stata assolutamente la squadra migliore. Credo che ieri sera la Juventus sia stata ordinata, precisa, corta, compatta dietro. Quindi c'è stata una vera e propria identità di squadra. Ho visto una squadra che ha seguito esattamente quelli che sono stati i dettami dell'allenatore che cercava una gara di questo tipo. E credo che anche la Lazio sia stata messa in sera difficoltà da questa Juventus tutta bella, precisa, ordinata dietro. Dall'altra parte vi dico, secondo me la Juventus davanti, quindi in fase di possesso, ha fatto poco, pochissimo. Non l'ho vista brillare e per quello che vi dico non sono così soddisfatto della gara. Ho visto dei passi avanti evidenti dal punto di vista della motivazione, ma quella passa dai giocatori rispetto alla partita col Monza. Ho visto dei passi avanti evidenti dal punto di vista della disposizione in campo. E sembra anche di rivedere un po' quella Juventus che comunque faceva fatica anche nelle otto gare che ha vinto, ma comunque poi il risultato lo portava a casa. Mi è sembrata rivedere una partita stile udinese, se vogliamo, una roba di questo tipo. Però secondo me davanti è mancato qualcosa. Il discorso è sempre quello, un po' quello che facevo l'altro giorno post Monza. Se decidiamo di continuare a parlare di calcio in questa situazione è difficile, ma dobbiamo far finta che la penalizzazione non esista. Dobbiamo far finta che questo momento non esista, dobbiamo far finta che anche magari sulla manovra stipendi non accadrà niente. Dobbiamo far finta che è difficile, è quasi impossibile. Io ieri sera vi dicevo, e anche stamattina, che ho perso un po' di carica e spero sempre che la partita possa ritrasmettermi quel qualcosa. Questo momento è difficile, è difficile. Forse devo andare allo stadio, ho bisogno di vederla dal vivo per cercare di respirare nuovamente un po' d'aria fresca. Ma se decidiamo di parlare di calcio purtroppo dobbiamo lasciarla da parte, perché non c'è un modo di analizzare il calcio passando anche per la motivazione che ci può essere legata agli stipendi. Poi sappiamo tutti che è difficile, che è complicato, è impossibile non parlarne. Però poi il rischio qual è? Che ogni partita la andiamo ad associare al abbiamo giocato male è perché pensavano alla penalizzazione, abbiamo giocato bene è perché volevano dimostrare che è la penalizzazione. E sarebbe un riassunto un po' troppo banale scontato della vicenda. Quindi dato che abbiamo deciso di continuare a parlare di calcio, vi dico, la partita di ieri molto bene dietro, davanti invece non sono stato soddisfatto. Quindi sei perché il compitino si è raggiunto l'obiettivo, quindi la qualificazione. Io ero anche molto negativo ieri, ma queste sono sensazioni mie che non possono andare poi a intaccare l'analisi vera e propria della partita. Era soddisfattissimo per la semifinale. Sulla partita invece ho un po' di dubbi, devo dire la verità, perché comunque la Juventus è stata la squadra in campo. Ieri sera ha messo seriamente in difficoltà la Lazio perché gli ha chiuso veramente tutte le possibilità di sfogarsi in avanti. Lazio praticamente mai pericolosa. Però la Juventus ha avuto tre, forse quattro occasioni da gol in totale, con tiri effettivi dentro l'area. Magari sì, però un po' poco. C'è da dire una roba invece, la Juventus, quelle quattro occasioni da gol che ha avuto vere, sono nate tutte dagli esterni. E ieri in cronaca dicevano che Allegri continuava a chiedere di allargare il gioco. Quindi questa sicuramente è stata una chiave della partita. Sei perché comunque va riconosciuto all'allenatore di aver messo in campo la squadra come doveva metterla per mettere in difficoltà la Lazio. Però secondo me qualcosa mi è mancato, devo dirlo, per quello che non ero pienamente soddisfatto ieri sera. Anche perché davvero la Coppa Italia è l'unico trofeo che secondo me quest'anno possiamo rischiare di vincere. E ci tengo, ci tengo tanto. Quindi so benissimo che poi certe partite non sono sufficienti più vai avanti perché già la semifinale con l'Inter non credo che possa essere un'opzione la partita che abbiamo fatto ieri sera. Però vediamo perché poi il calcio, sapete, è strano, la palla è tonda. Però l'Inter in questo momento non mi sembra la squadra che abbiamo affrontato in campionato qualche mese fa. Proprio no. Perin, voto 6 perché, ripeto, la Lazio non ha mai tirato in porta. Credo che l'unica volta che si è sporcato i guanti sia stata in occasione della punizione di Cataldi da lontanissimo. Il segno che la difesa ha retto bene, 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 benissimo e anche il centrocampo che ne parleremo dopo. Alexandro, voto 6. È stato forse quello meno appariscente lì di dietro, però solido, tranquillo, preciso, ordinato. Ha sbagliato poco e niente. Suo 6 sulla porta a casa, partita concreta a parte Alexandro. Seth Bremer perché penso che l'abbia saltato forse Pedro, una volta là in fondo, in area. E poi poco e niente. Ha retto il muro ma soprattutto ha risolto la partita. Perché se la difesa non regala palle e gol agli avversari davanti e il difensore poi è anche il match winner della serata, allora significa che dietro si è lavorato bene. E mi fa molto piacere vedere Bremer che risolve la partita dopo due prestazioni un po' altalenanti con Napoli e Monza. Dove mi ero anche un attimo preoccupato. Mi era venuto a dire, oddio, vuoi vedere che questo con la testa non è abituato giustamente a queste situazioni? E sta facendo molta fatica. Invece Bremer ieri ha fatto una gran partita e l'ha risolta lui. Quindi molto bene. 6 e mezzo Danilo che dei tre dietro mi è sembrato quello con più voglia di cercare anche una giocata in avanti. Ci sono state un paio di volte in cui veramente ha giocato due palle interessanti. C'è stata un'azione in particolare nel primo tempo che mi è piaciuta tantissimo perché Danilo da palla diagonale a Fagioli e Fagioli da palla diagonale a Chiesa e Chiesa da palla diagonale dentro per Vlaovic. In due passaggi potevamo arrivare in porta con due palloni giocati in avanti e poche volte vediamo questa cosa. Ma Danilo quelle cose lì ce le ha. Anche la palla perfetta che aveva dato a Ken l'altra volta e poi aveva sbagliato, non aveva tirato in porta. Insomma Danilo piedino educato, ha bisogno di gioco di un certo tipo quindi secondo me 6 e mezzo se lo porta a caso. Allì dietro è un'opzione in più anche per trasformare l'azione della difensiva offensiva. 6 a quadrado che tornava dopo tanto tempo, non la gara migliore della storia di quadrado però tranquillo, è sempre quella sensazione che faccia ancora un po' fatica a saltare l'uomo, sempre quella sensazione di dove è finito il vero quadrado. Quella di ieri è stata una partita da 6, sufficiente, senza squilli, senza giocate clamorose però di concentrazione. Voto 6 Nicolò Fagioli che mi è sembrato un po' altalenante. Ci sono stati 2-3 palloni sbagliati non da Fagioli, anche il calcio angolo che ha battuto, che è andato molto all'indietro, una palla che perde, nasce l'occasione per l'Alasio. Insomma 2-3 errori in fase di disimpegno, errori tecnici non da Fagioli e poi il resto sono tante giocate di qualità dentro il campo ma soprattutto quando vedo Fagioli giocare, secondo me Fagioli, Rabiot e Locatelli funziona per un motivo. Fagioli e Rabiot sono gli unici due giocatori che danno un'opzione senza palla, si muovono, si smarcano, cercano di andare a prendere gli spazi e questo non è poco, anzi è tantissimo all'interno di una squadra Juve che dribbla poco, all'interno di una squadra Juve che gioca con un 3-5-2 che è un sistema di gioco in cui solitamente le posizioni sono molto inchiodate, avere due giocatori che fanno un movimento senza palla e vanno nello spazio a cercare di dare un'opzione in più di passaggio ai compagni è molto positivo, quindi voto 6 a Nicolò Fagioli. Ho perso Locatelli, eccolo qua. Locatelli voto 6 a mezzo. Credo che ieri abbia fatto un'ottima prestazione soprattutto dal punto di vista difensivo perché se la Laste non ha avuto possibilità di sbocchi, tanto merito è di Manuel Locatelli. È di Manuel Locatelli che ha giocato una partita un po' più difensiva, però molto efficace. Tanti palloni giocati, ma soprattutto nel secondo tempo l'unica occasione da gol che abbiamo, quindi quel tiro di Kane che poi ormai Maximiliano si fa sfuggire sotto le gambe e fa una seconda papera dopo quella del gol di Bremer, nasce De Locatelli che fa una verticalizzazione importante, palla alta, bella, un bel passaggio di Locatelli a scala della difesa. Quindi ieri Locatelli mi è piaciuto, penso proprio che si porti a casa la 6 e mezza del migliore del centrocampo perché avete già visto il voto di Rabiot. Si prende 6, tanto lavoro sporco ieri da parte di Rabiot. A un certo punto Allegri decide di metterlo su Luis Alberto perché vede che da quella zona che nascono un po' più i pericoli, quando poi entra Milinkovic-Savic si va a prendere Milinkovic-Savic all'interno delle rotazioni che faceva il giocatore perché poi è andato praticamente a fare l'attaccante dato che la Lazio doveva recuperare il gol e quindi le palle andavano messe all'interno dell'area di rigore. Rabiot ha fatto una partita molto intelligente, molto a uomo sugli uomini che in quel momento davano fastidio, quindi si è visto poco ma ha fatto tanto lavoro e un paio di recuperi palla al centrocampo che non mi sono dispiaciuti. 6 perché non è stato chissà che cosa, però è stata una partita invisibile ma molto importante quella di Rabiot. 7 è Kostic che secondo me è stato forse il giocatore migliore all'interno della partita perché nel primo tempo il primo tiro in porta è suo lì sulla sinistra che va a dialogare con Vlaovic e poi tira. Il gol nasce sì dall'errore di Maximiliano, sì dalla zuccata di Bremer ma sì dal cross splendido che esce dal piede di Kostic e mette un cross fantastico perché la palla arriva proprio lì per essere colpita è per fare in modo che il giocatore possa rimanere in gioco, quindi una pennellata magnifica da parte di Kostic. Quindi due o tre giocate individuali di Kostic efficaci e probabilmente ieri vinciò la partita proprio grazie a lui. Quindi bene perché post mondiale era un po' che lo vedevo appannato. Ieri mi è piaciuto le poche occasioni da gol dentro la partita a Nascand a Kostic. Ciao, torno su Rabia un attimo perché l'occasione più grande della partita l'ha avuta lui. Quindi prima parlavamo di partita invisibile, sì, però poi quando c'è stato il bisogno e la necessità di essere visibili era meglio continuare a essere invisibili. Invece Kostic concreto nelle giocate che ha fatto mi è piaciuto. 5 a Vlaovic, non ha fatto una gran partita secondo me Vlaovic, però sapete appena tornato dall'infortunio è stato fuori, cos'è stato fuori, un centinaio di giorni lato Juventus circa, un mondiale di mezzo che non ha giocato ha giocato soltanto una partita, quindi è logico che Vlaovic abbia da recuperare in questo momento la forma migliore e ieri pochi palloni giocabili. Chiesa l'ha cercato tante volte sulla profondità, non è mai riuscito a trovare una possibilità di tiro. solo una volta, ce l'ha avuta sul mancino, il giocatore dell'asta l'ha recuperato, è uscita fuori una scoreggina quindi non la migliore prestazione di Vlaovic, non mi è piaciuto. Voto 6 invece a Federico Chiesa, che oggi vedremo all'interno del documentario di Amazon Prime una prestazione strana quella di Chiesa perché, lo dicevo anche ieri, lui è stato messo lì in quella posizione che secondo me lo limita tanto, va a limitare tanto il potenziale offensivo di Chiesa perché lui adora partire da una fascia che sia a destra o a sinistra, probabilmente meglio da a sinistra perché poi può accentrarsi. E infatti il gol nasce da questo. Chiesa che tiene in campo il pallone dalla sinistra e crossa con il destro dentro l'area di rigore decide di tenere dentro quella palla e poi Kostic la rimette on the box quello che vi dicevo prima, Allegri che chiedeva di giocare molto larghi però Chiesa non è lì che è veramente forte non è in quella posizione centrale non è il giocatore che deve dare il pallone in verticale non è un trequartista, non è la seconda punta, non è un fantasista Chiesa è un attaccante esterno lui sta bene lì, così come non è un esterno difensivo quindi credo che sia veramente urgente e necessario trovare un modo di ripristinare un tridente per la Juventus perché Chiesa si trova benissimo a partire largo Di Maria si trova benissimo a partire largo abbiamo necessità di sistemare questi due giocatori che fanno la differenza all'interno di un sistema di gioco che vada ad esaltare le loro caratteristiche soprattutto ora che si è fatto male Milik e quindi magari non è nemmeno necessario un attacco a due ti basta uno tra Kenny Vlaovic al centro dell'attacco con questi due ai loro lati vediamo, vediamo perché credo che sia veramente urgente trovare un modo per sistemare Chiesa nel migliore dei modi perché ieri ha fatto una partita da sei perché la voglia lui, la gamba ce la mette sempre la corsa ce la mette sempre ma non è stata sicuramente la partita di Federico Chiesa perché non può esaltarsi in quella posizione, un po' troppo intrappolato poi ci può giocare certo, ma perdi tanto del suo potenziale offensivo voto sei a Ken che è entrato siccome è bene è andato a pressare un paio di volte quel pallone di Locatelli lo va ad arpionare lo mette giù, punta gli avversari, tira purtroppo non trova il gol c'è stato un cross a un certo punto di Kostic sulla sinistra un altro bel cross nel secondo tempo che Kostic riesce a mettere dentro Ken non arriva puntuale peccato, però credo che sia una partita da sei i pochi minuti che ha giocato credo che sia entrato con la mentalità giusta come credo che sia entrato anche abbastanza bene Miretti non ho niente da dire solitamente in questo periodo lo vedo molto timido lo vedo molto deconcentrato invece secondo me ieri sarei entrato con un appiglio differente forse perché era da un po' anche che non si vedeva in campo non ha fatto chissà quanti minuti quindi aveva da concentrarsi semplicemente in quei pochi minuti però ieri Miretti secondo me leggermente meglio e poi Di Maria di Maria gli ho voluto dare il voto gli ho voluto dare sei perché secondo me Di Maria è entrato e ha fatto i buchi per terra il cambio Chiesa di Maria è giusto anche perché Chiesa aveva già giocato qualcosa come 76 minuti più recupero quindi c'è da baciarsi i gomiti che Chiesa abbia già fatto così tanti minuti fantastico quindi ci sta poi a mettere Di Maria e secondo me Di Maria in quei pochi minuti che è stato in campo ha fatto impazzire ha fatto impazzire i difensori della Lazio i centrocampisti della Lazio perché non lo si prendeva era un anguilla quindi la qualità Di Maria ce la mette sempre io credo che Di Maria sia uno dei giocatori con più qualità che abbia mai visto alla Juventus lo metto insieme ai vari Pirlo a Di Bala stesso se vogliamo a Del Piero magari in questo momento me ne sfungono sicuramente ma non era quello il punto ma Di Maria è qualità allo stato puro è qualità fatta e sistemata all'interno di un uomo e la esprime attraverso i piedi però è lezioso è leziosissimo infatti Allegri si è dato un'incazzata incredibile su quel mezzo tiro d'esterno là in fondo quindi ci sono delle giocate di Maria che sono di livello altissimo però mi dà sempre la sensazione che lui voglia divertirsi dentro la partita e questo va completamente in antitesi rispetto al pensiero dell'allenatore che in un momento simile con l'Alasio che può riaprire la partita da un momento all'altro può allungare la partita di 30 minuti può trovare una rete di un pareggio che fino a quel momento non aveva meritato ma il calcio non è che è ai punti la squadra avversaria può fare gol in qualsiasi momento sono davvero convinto che Allegri volesse qualcosa di più concreto ho visto il video in cui impazzisce urla e se ne va quindi c'è questo confronto a distanza di ideologie tra il pragmatismo l'essere concreto da parte di Allegri il volersi divertire ed esaltare di Di Maria ovviamente qua proprio sbagliato la giocata mi ha fatto sorridere una riflessione finale che volevo fare insieme a voi e quindi niente ragazzi queste sono le pagelle ripeto siccome è partita completamente meritata della Juventus partita poco divertente sia da una parte che dall'altra non sono completamente soddisfatto perché arrivato a questo punto della stagione credo che sia necessario pretendere qualcosina in più perché sì perché sì perché la Coppa Italia me la vorrei portare a casa mi farebbe piacere vincere un trofeo anche se sono abbastanza negativo da questo punto di vista devo essere onesto con voi mi piacerebbe fare un buon percorso in Europa League ma soprattutto credo che la Juventus debba cercare di salvarsi sul campo perché dai tribunali potrebbero arrivare notizie ben peggiori e quindi dobbiamo farci trovare pronti quindi spero veramente che si possa fare decisamente meglio in tutte e tre le fasi perché siccome ieri fase difensiva molto bene fase di transizione benino fase offensiva male e quindi bisogna essere efficaci in tutte e tre i reparti che si possa fare